Ciao, io sono quel musicista che fa beneficenza solo se può spiattellarlo in faccia a tutti e ora che sai che sono un benefattore, tu non potrai mai odiarmi Mi faccio vedere solo con i VIP solo per farti capire quanto io sia altolocato, snob e sostanzialmente abbia una vita superiore rispetto a voi plebaglia di merda ma ricorda... beneficenza Benvenuti alla prima puntata del mio corso di chitarra oggi impariamo il la maggiore problema prima, iscriviti al canale, metti like, lascia un commento, iscriviti al mio canale Twitch abbonati, collega l'account Amazon Prime se non l'hai ancora fatto seguimi su Spotify, follow al mio Instagram, segui anche il profilo del mio tacchino domestico stalker al mio cane, compra la mia acqua gasata, acquista la mia droga autografata clicca sul link degli sponsor, compra la mia collezione di supposte usate in indicola abbonati su OnlyFans per vedermi mangiare le unghie dei piedi 6.5 hours later Questo mese c'è lo sconto del 50% del mio profumo all'aroma di ascella estiva in metropolitana e ora arriviamo a noi, ecco la maggiore Fatto, ciao E dica non lunga il miglior corso di chitarra che abbia mai visto Cari peni superflui del culo di Vanna Marchi io sono il musicista che critica tutto come se ogni genere musicale fosse facile e di certo non sto mascherando la mia frustrazione sotto forma di comicità volgare Cazzo, merda, culo Ciao, io sono quello che fa gli sketch comici su TikTok che sicuramente non riprende delle scene già viste su YouTube ma anche fosse, su TikTok tanto tutti copiano tutto e nessuno deve dichiarare un cazzo Siete pronti? Ehi, mi suoni Switch Child O Mine A, E, I, A, A, O, U, E, A, E, I, A Questa è una chitarra ma non è una semplice chitarra perché questa chitarra è molto più chitarra di qualsiasi chitarra e adesso con questa chitarra suonerò la canzone più difficile che si possa fare con la chitarra Siete pronti? Ah, ah, ah Frase d'effetto nella mia lingua originaria E noi ci vediamo la settimana prossima con un'altra chitarra Ciao, io suono il riff più facile del mondo ma con un attitude da straccia motande e quindi farò più views di chiunque altro persino di chi suona i Dream Theater al doppio della velocità Sono la signorina Silvani del 2022 Ciao, noi siamo una cover band di Vasco io sono Paolo, il cantante e come tutti i frontman delle cover band di Vasco mi atteggio e parlo come Vasco anche fuori dal palco ancora oggi siamo l'unica tipologia di cover band che può ancora riempire i pop Sul serio? Nel 2022? E chi altro dovrebbe riempirla? Le cover band di Sfio e basta? Chitarra Oh, finalmente c'è ancora qualcuno che crede nell'insegnamento reale e non sta a casa tutto il giorno a rincoglionirsi davanti a quei cazzo di social maledetti Sì, penso che mettersi nelle mani degli esperti sia la cosa migliore Esatto, noi della scuola di musica siamo gli unici che possono far spiccare il volo alla tua creatività Se tu sei bravo, eh Io sono solo un creativo Sei un creativo tu Un gran creativo Un gran creativo Bene, allora, oggi ci occupiamo del modo misolidio Misolidio, ok? Allora, sostanzialmente differisce dal modo ionio Ionio, la scala maggiore naturale, verbalmente parlando Solamente per il settimo grado Scusa, a proposito di creatività Io in questo periodo sto scrivendo dei brani E mi servirebbe un aiuto un po' più pratico sulle scale che si utilizzano comunemente Quindi riusciamo a focalizzarci un po' di più sulle scale che posso poi utilizzare nei miei brani Scusa, tu hai studiato alla Berkeley? Ma cosa c'entra? Ti ho fatto una domanda Rispondi Tu hai studiato alla Berkeley? No Andresti mai dal tuo insegnante di matematica a dirgli Ehi, non le voglio imparare le frazioni Fammi fare le radici quadrati Coraggio E allora tu fai quello che ti dico io Quando te lo dico io Come te lo dico io E non questioni E se ti dico di infilarti la chitarra su per il culo Perché quella è una supposta creativa Lo fai? Hai capito? Sì, signore Bene E ora fila a comprare la nuova versione del mio metodo Così mi accaparro le royalties Ok Prima di andare ti posso chiedere una cosa Mi suoni Switch, Eldo Mine? A, E, I, A, O, U, E, A, O, I, E, A, O, O A O E A O E E A O